Boys, bentornati sul canale Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente Come state boys? Spero tutto bene Oggi vi voglio portare una nuova deck profile di Tenpai Budget più budget Let's go! Allora, lo sappiamo tutti, questo è il mazzo del momento Perché letteralmente solo l'archetipo costa all'incirca tra i 30 e i 35 euro Adesso Pydra è sceso di nuovo Quindi spero per voi che lo avete acquistato Ma oggi andiamo a vedere questa nuova deck profile Con solamente due Pydra Quindi 10 euro risparmiati Ma prima di tutto, ovviamente, iscrizione al canale E lasciate un like per il supporto, ovviamente E poi, come sempre Andatemi a seguire su Instagram Cazzo! Mi trovate come Bastardo7 Fatelo ragazzi! Fatelo! E detto questo, io direi di cambiare inquadratura Let's go! Allora boys, questa versione è veramente ideale Per chi si approccia al gioco da zero Perché, a parte le staple, il resto veramente non sta a un cazzo Mi sono messo d'impegno per metterci le alternative più budget che potevo metterci E oggi ve le faccio vedere Allora, partiamo subito con l'engine Due copie di Pydra Questa sta a 9,10 euro Quindi ne giochiamo solamente due Così so 20 euro Easy E adesso voi direte Ma questo è lo starter? Sì! Cazzo! È vero! È proprio vero questo è lo starter? Ma si può giocare anche a due Perché la matematica non è un'opinione Inoltre abbiamo 5 magie terreno Perché abbiamo 3 terreno Terraformare e Set Rotation Quindi abbiamo 5 carte magie terreno Che vanno a prendere questo 3 pair di Cundra Quello fuoco Questo è molto forte E 2 copie di Fadra A posto Meno di questo non si può giocare Passiamo poi a 2 copie di Babbo Ortigli Se Babbo Ortigli non ce l'avete Ci mettete Il Kaiju Ragno O Gamasiel Che l'hanno ristampato 2 Pancratopo Ok? Qua andrebbe Ferrir Noi invece mettiamo Pancratopo E poi passiamo alle HT Perché ho voluto giocare stavolta Un mix tra Boardbreaker e HT Ovviamente ci ho messo le HT quelle simpatiche 3 copie di Droll Almeno facciamo schippare il turno Inutile giocare Ash secondo me adesso Specialmente su questo mazzo Perché tanto Ash I mazzi forti ci giocano intorno Droll Se risolve Non possono più aggiungere carte per tutto il turno 3 perdi in permanence La possiamo giocare sia come HT Sia come Go in Second Una copia di Magnamut Una copia di Baldrake E un Corvo DD Perché lo sapete È l'uccello che vogliamo sempre avere in mano Allora Queste due perché Semplicemente perché vanno a sostituire Druiswurm Se avete Druiswurm Giocate due Druiswurm Mi pare che sta all'incirca sui 10 euro 10-12 euro Druiswurm Quindi Baldrake va a sostituire un Druiswurm E Corvo DD uguale Corvo DD In alternativa si potrebbe giocare anche al posto di questo Ho voluto mettere Baldrake Perché comunque ci aiuta a fare sincro 10 Passiamo poi alle spell 3 Kaimen 3 Terreno Ovvero Sanghen Una copia di Strada dove c'è la volontà Questa qua praticamente Go in Second è fortissima Perché va Sostanzialmente a scimmiottare la Prosperity Però non abbiamo il malus del danno dimezzato Quindi Con questa praticamente Non ce ne frega un cazzo del Draco Tridente E ovviamente Set Rotation E Terraformare Easy Quindi abbiamo molti modi di arrivare a Pydra Ma in alternativa potete giocare anche il 3x di Pydra Questa perché è veramente la versione proprio Spicy Budget Proprio Euro Spin 3x di Droplet Droplet è la carta più forte del momento Io ve lo dissi un po' di mesi fa Che comunque le carte a cui non si può rispondere Sono sempre le carte più forti Ovviamente 3 spoli Quella common sta a 4 euro 4-5 euro Io ve lo dico da bu 3 anni Comprate le spoli Quindi appena potete comprare le spoli Comunque queste sono staple Nel senso Queste sono carte che bene o male Dovresti avere Il resto del mazzo veramente non costa niente Due copie di Fulmine Tempesta Spolverino Colled E Rivalità dei Signori della Guerra Perché comunque Queste due carte Se ci mandano primi Ci possono aiutare Ovviamente qual è il problema del mazzo È che magari all'inizio Gliela fate Andar a secondi Poi però appena si sparge un attimo La fuce Che avete il mazzo che va a secondo Magari perdete il dado Vi mandano primi Quindi ho voluto giocare Un po' più di roba Per andare primi Tipo appunto Rivalità Colled E le Entrap A modo di Droll Perché Droll Di base Se risolve Avete quasi vinto la partita E quindi Questa è la profile Budget Più budget Sì si risparmia così Proprio così Let's go Skill let's go Bene boys Passiamo all'extra deck Anche questo super ultra budget Abbiamo il drago Quello livello 10 Due copie di Bident Una copia del drago meteora Kakasbura Fortissima questa Prendetela Cioè stava tipo a un euro Qualche mese fa Antico drago fatato Drago rosa nera Drago rosa nera Max plus Samurai distruttore Questa carta è veramente Stupenda È praticamente L'out A Yubel Quando combatte con un Mostro l'avversario Nella battle face Gli annula l'effetto Solamente durante la battle Molto forte E come ultimo sincro Vi porto La touch Del bash Una copia di Amazing dragon Boys Questo qua è un sincro Di livello 11 Perché un sincro Di livello 11 Semplicemente perché Non avendo il tridente Ovviamente Le combo Fanno un po' così A cazzo di cane Perché non c'è il drago tridente E molte volte C'avete Il sincro di livello 7 Tipo che cazzo Ne so Questo qua E il tuner Di livello 4 E quindi Potreste fare 11 Ma non abbiamo mai 11 Nell'extra E quindi Cosa cazzo ha fatto Il bash Sì cazzo fratello Ho messo un sincro Livello 11 Porco oddio Ah ah Fantastico Niente Semplicemente Questa è la spiegazione Perché c'è Questo sincro Di livello 11 Magari state in battle face C'avete questo Il tuner di livello 4 Magari vi manca un attacco Appunto perché non c'è Il drago tridente Fate Sincro Sincro 11 Let's go Ski let's go Entra questo Che è il livello 11 E picchiate per 3000 Questa cosa Non l'ho vista a nessuno Ovviamente Perché la gente gioca Il drago tridente Però Sapete no Come funziona il bash Se non potete utilizzare Una carta che costa Un polmone Andiamo a trovare L'alternativa Passiamo poi Link Le mie palle Ita Ita Madonna Che dire boys Questo qua è l'extra deck Budget Più budget Che esiste Menzione d'onore Alla Mads in dragon Che è anche American Fantastica questa cosa Fidatevi Che questa carta Vi risolverà Quelle partite Storte Che magari Vi è sentrecciato Il cervello E ci avete appunto Chundra Che è tuner Livello 4 E magari un sincro Non tuner Di livello 7 Fate Sincro 11 Picchio Let's go ski Let's go Bene 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 Passiamo alla side Non ho messo Ovviamente Onda di calore Perché solo quella Costa quanto il mazzo Quindi Oggi Vi faccio vedere Una side speziata Al limite Del cancro Però comunque Il suo Lo fa Nirvana Il paladino alto Incantatore Molto forte Sincro 10 Accompagnato dal Villaggio segreto Degli incantatori Ovviamente Fate la combo Con l'antico Drago Fatato Vi aggiungete questa Sincronizzate 10 Fate incantatore Mettete questa E il vostro avversario Non gioca Necro valle Ovviamente Avete sempre La stessa combo Dell'antico Drago Fatato Più set rotation Più terraformare Quindi In base a contro Chi state La piazzate E fa veramente male Passiamo poi Alle carte simpatiche Per andare primi Ovviamente Non giocando Onda di calore Perché costa Quanto il mazzo Andiamo a cercare Modi più divertenti E efficaci Per Logorare il nostro Oppo Scontro Godzen Antispell Due copie Dello specchio Imprigiona Ombra In alternativa Se giocano il mazzo Li Voiceless voice Potete giocare Quella della luce Questa qua contro Branded È molto simpatica Tre copie Del nonno Decido io Cosa entra E tre copie Di barrier Andiamo a chiudere La side Ovviamente Con la spezia Due copie Di crollo Gravitazionale Io penso Che una carta Più cancrata Di questa Non l'hanno mai Stampata Questa è pure Peggio di Mina mistica Non sapete Cosa fa Ve la leggo Quando il tuo avversario Sta per evocare Uno o più mostri Manda un mostro Syncro Scoperto che controlli Il cimitero Annulla l'evocazione E se lo fai Distrugge quel mostro E il tuo avversario Non può evocare Un mostro Fino alla fine Di questo turno Sostanzialmente Gli annullate La prima evocazione E l'avversario Non può più evocare Per il resto del turno Ovviamente È scritta Con il culo Perché alla Konami Non sanno scrivere Nel manco il testo Comunque sia L'avversario Poi non può evocare I mostri Non può evocare Non può evocare E questa boys Era la side Criminale Del ghetto Detto questo Spero Che sta deck profile Vi sia piaciuta Veramente Mi sono messo Di impegno Proprio Ho tirato fuori Tutto il mio potenziale Criminale Del ghetto Pure la side Regà È abbastanza funny Lasciate un like Per il supporto E fatemi sapere Nei commenti Che cosa cazzo Ne pensate Di questa versione Super criminale Detto questo Come sempre Andatemi a seguire Su Instagram Mi trovate come Bastardo7 Fatelo ragazzi Fatelo E detto questo Non si beccamo Al prossimo video Let's go